Piero Cicala Non ho Pierucca Maria Signori con noi ai migliori anni L'uomo dei bottoni color madreperla Piero Cicala Non lo so, ne parlano tutte le radio E che cosa hanno detto? Che Talita Cortese, la donna più famosa del mondo Stava dentro la camera di Piero Cicala Scappavo dai fotografi Che c'è? Non ti gusta però? No, mi gusta molto Di chi è? Che cose? L'avito Mio No, lo stilista in tienda Posso chiedere che cosa ci faceva Talita nella sua stanza? Possiamo parlare di una nuova fiamma italiana per la cattiva ragazza argentina? Sì, il mio nuovo boyfriend Boyfriend? Hai detto boyfriend? Fai certi pensieri Che se uno ti guarda manco ci crede che li tieni Siccome sono figa dunque, cretina Figa Carina Amami di più Perché l'amore è un frutto Che non sazia mai E il mordere più dolce Che c'è E non andiamo in aereo?